Mentre ad Arezzo si sta con il fiato sospeso per la vendita, anzi la svendita dovremmo dire, della cosiddetta Good Bank, ovvero ciò che di buono è rimasto della vecchia banca Etruria, intanto continuano a saltare fuori notizie di coloro presunti amici degli amici che potrebbero aver ricevuto denari dalla popolare. Gli uomini della Guardia di Finanza stanno infatti eseguendo perquisizioni nelle sedi delle 13 società riconducibili a Meterios Capital SPA, azienda collegata all'ex candidato sindaco di Roma, attualmente consigliere comunale di opposizione Alfio Marchini. Perquisite anche le abitazioni degli amministratori delegati delle società. I reati per cui la procura di Roma ha iscritto 22 persone nel registro degli indagati, tra cui lo stesso Marchini, sono quelli di associazione a delinquere e false comunicazioni sociali delle società quotate. Le operazioni finanziarie finite nel Mirino riguardano la Popolare di Vicenza e la Banca Popolare delle Etruria e del Lazio. L'indagine condotta da IPM Giuseppe Bianco e Rosaria Guglielmi e coordinata dal procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli, prende il via dalla testimonianza di Andrea Suriano, a sua volta indagato, che figura proprio nel CDA Meterios come vicepresidente.